Lo che faccio alla nostra gente, quello che faccio alle compagnie e ai compagni che hanno voluto questa candidatura perché credo che oggi mi hanno regalato un'emozione che non avevo mai pensato di provare prima ed è un'emozione strana perché salendo su questo palco è come se tutto quello che ho fatto in politica tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello di cui sono stato parte, oggi è come se non conti più niente L'approccio con la gente mi fa sperare bene, qui c'è tanta intelligenza, tanta competenza, tanta conoscenza della politica tanta conoscenza della macchina burocratica e amministrativa, l'approccio con la città però è di profondo sconto pochi comizi per strada, ascoltare la gente, capire i problemi, cercare di essere discreto e soprattutto cercare di ricevere il più possibile dalla gente per strada Avete iniziato presto anche perché poi Crocetta con il cambiamento delle date forse vi ha anche messo nelle condizioni di forse iniziare troppo presto oppure siete ancora nei tempi giusti? No, no, dovremmo avere inizio presto, come ho detto durante l'inizio, dobbiamo lavorare, abbiamo tempi stretti dobbiamo produrre realmente un programma per cambiare la gente come una soluzione e poi è giusto partire così, è giusto che la gente ci conosca il tempo Questa sera, al di là delle parole, mi sembra di aver capito che hai spiegato chiaramente che cosa vuol dire per un catanese, tra virgolette, diventare sindaco di questa città Io, ripeto, mi sono sempre sentito partire una comunità che andava un po' oltre quella che era la città che risulta nella mia, quando rinascere risulta nella mia partita in vita Ecco, io non racconto la voglio portare di fare questa brutta e ne ricordo tutte le lotte che ho fatte della brutta che ho conosciuto in città La mia città è stata devastata alle destre, è stata saccheggiata alle destre ecco, io vorrei raccontare a quella che è ora la mia prima comunità vorrei raccontare quello che è risultato, gli eventi, gli eventi di pessima amministrazione Ci saranno giorni difficili nel senso che questa città adesso scenderà in campo con i tuoi, fra virgolette, avversari Voi continueremo sulla stessa linea, se non ho capito male Ma, noi, ripeto, vorremmo inventare il suo avversario sul termine del confronto politico, della proposta, concreta sul termine anche della chiarezza, ecco, voglio riuscire con la giunta è una sfida che noi facciamo alla politica finiamo di nasconderci, di attendere l'ultimo minuto, di attendere gli equilibri apparentemente ecco, mettiamo subito in campo il progetto che abbiamo preso Hai una ricetta molto semplice, quella del dialogo con l'agente ma l'agente, secondo te, è disposta ancora ad ascoltare la politica? Io credo che la politica debba tornare a parlare alla testa e alla pancia dell'agente debba mettere in connessione quella che la sua capacità di comprendere quindi dobbiamo tornarci noi, affidarci dell'agente per fare in modo che quella gente si figli di noi Io credo che con una giusta linea politica, con competenza, conoscenze, con l'amore per questa comunità e per la fiducia nei confronti dell'agente fa qualcosa di buona pubblicazione Grazie